Per una versione nuova che è arrivata della Scrambler 1200 XE, eccola in queste immagini un po' rivoluzionata esteticamente, tecnicamente, con tante chicche che Triumph ha equipaggiato per la Scrambler 1200 X, direte cosa c'entra? Perché per una novità, insomma che poi ogni tanto è una novità, un aggiornamento importante di una moto, arriva in realtà poi una edizione finale di un'altra moto, iconica, davvero molto rappresentativa per Triumph, che è la Traxto. Sappiamo ahimè che questa sarà l'ultima stagione di produzione di questa motocicletta, che ha una storia davvero incredibile per quanto si è voluto, innanzitutto questo motore twin bicilindrico che è arrivato alla cubatura di 1200 in versione HP rispetto a quello che equipaggia la Bonneville e Triumph ha voluto, insomma, per quest'occasione innanzitutto donare alla Traxto 1200 la livrea tipica, no? Delle categorie racing inglesi, cioè questo green che ha caratterizzato, insomma, il colore dei veicoli inglesi da sempre. Le cose che dobbiamo sapere è che ogni paese avrà il suo quantitativo di Traxto 1200 Final Edition, dopodiché una volta esaurite ci hanno detto che soltanto per questa stagione, quindi si presume nei prossimi 12 mesi, ci sarà la possibilità di produrne altre e di consegnarle, però tutto sarà limitato molto probabilmente entro il 2024. Devo dire che ho provato la Traxto 1200 in diverse occasioni, anche potendola guidare in maniera sportiva ed è strabiliante sapere che sei proprio al cospetto di una moto sportiva in quanto a tiro, in quanto a ciclistica, mi ha sempre colpito e mi ha regalato davvero sempre tanto divertimento. Il prezzo di questa Final Edition è diverso rispetto alla Traxto 1200, chiamiamola base, perché arriva a 19.095 euro. Insomma, visto che i numeri sono pochi, collezionisti ma anche semplici amanti e appassionati del marchio Triumph dovranno affrettarsi per accaparrarsela.